Alla fine abbiamo un nuovo Giant Killer, Angel Calderon passa dalla 212 all'Open e la sua prima gara da Open vince e si qualifica così direttamente al Miss Olympia 2022 nella categoria Open ed è addirittura qualificato come Sean Clarida anche alla categoria 212. Questa qui che vedete è la scorecard di tutti i pensamenti finali come vedete al primo posto c'è Angel Calderon, al secondo posto Emir Omeragi che è l'atletta di soli 22 anni mentre al terzo posto abbiamo Dani Caganovic, devo dire che secondo me è stata una bellissima gara questa qui in Spagna. Angel secondo me non è che abbia stravinto, lui e Emir che è arrivato secondo erano molto molto vicini però visto dalle scorecard che i giudici avevano le idee abbastanza chiare solo un giudice ha messo Angel come secondo posto mentre gli altri li hanno messo tutti come vincitore. Dicevo secondo me Angel e Emir erano molto vicini, entrambi erano in buonissima condizione, entrambi sono molto completi, erano molto vicini soprattutto nelle pose di schiena, nessuno batteva l'altro nelle pose di schiena e quindi dato il fatto che erano molto vicini non mi sarei sorpreso se anche Emir, scusate se Emir avesse vinto la gara al posto di Angel. Se Emir avesse vinto obiettivamente non avrei nulla da dire perché erano molto vicini, Emir è un'atleta che a me piace, anche Angel mi piace però se avesse vinto Emir non avrei detto nulla. Però ha vinto comunque Angel, non ho niente da dire comunque lo stesso perché ripeto erano molto vicini, Angel a me piace molto come atleta. Ricordiamo che Angel viene dalla 212, è arrivato quarto al Miss Olimpia nella 212, due settimane fa ha vinto il Romania Muscle Fest nella categoria 212, quindi è qualificato sia nella 212 che all'Open come Sean Clarida. Quindi un altro punto di domanda, un altro atleta che è qualificato sia alla Open che alla 212 e ora penso che Angel e Sean debbono scegliere a quale categoria partecipare all'Olimpia dal prossimo anno. Farò un video a parte in cui parlerò precisamente di questo argomento, però penso che Angel ora non penso che passerà direttamente all'Open, penso che continuerà nella 212. Il motivo per cui ha fatto l'Open è perché nella 212 a questa gara c'era anche Ole Crivi che è il suo compagno di team e che non aveva ancora la qualifica, quindi penso che si è passato all'Open in questa gara per dare la qualifica a un suo compagno di team e anche a un suo amico. Non penso che sia intenzionato a passare all'Open definitivamente, anche se non ne ho la certezza, solo lui lo sa. Tra l'altro devo dire che onestamente Angel non me lo aspettavo così basso, pensavo sì che era basso perché ovviamente pesa meno di 96 kg, però onestamente non me lo aspettavo così basso a confronto con altri atleti. Atleti come per esempio Emir o Morgan Asti che è alto 1,90 m più o meno. Devo dire che Angel è veramente molto basso, però obiettivamente anche se era il più basso era il più completo e quello con la definizione migliore. Però vorrei un attimo parlare di Morgan Asti che è terminato al sesto posto, alla fine devo dire molta sorpresa perché non mi sarei mai aspettato prima della gara che Morgan sarebbe arrivato in top 6. Non mi capacito del fatto che lui sia entrato in top 6 e atleti come per esempio Jan Turek che è arrivato dietro di lui sia arrivato settimo. Perché onestamente Jan Turek è molto meglio di Morgan Asti, però alla fine ha privato il suo Morgan. E un altro atleto di cui volevo parlare è Fabio Romagnolo che alla fine ha terminato al dodicesimo posto come in Romania. Onestamente non mi sarei aspettato questo spezzamento di Fabio, secondo me poteva tranquillamente rientrare nel top 5 o anche top 3, però come ha detto lui non era nella sua miglior forma di sempre. Lo ha detto lui stesso, ha ammesso che questa gara è andata un po' di merda per lui e non era nella sua miglior condizione. Almeno apprezzo l'umiltà di ammettere che non si era nella miglior versione di se stessi invece che dire che si era nella forma della propria vita e che doveva arrivare il primo, grazie coach eccetera eccetera. Almeno ha un po' di umiltà invece di molti altri atleti. Comunque ricapitolando, Angel Cadron vince e si qualifica ora a Mr. Limpe 2022 se la categoria Open che è 212. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se pensate che la vittoria di Angel sia meritata o no o se pensate che Emir o qualche altro atleta doveva vincere questa gara. Vi chiedo un like e un commento come al solito per sostenere il canale e noi ci vediamo al prossimo video.